Ciao a tutti e tutte, è sempre un piacere ritrovarci per un nuovo episodio di Capsule F per le generazioni future. Siamo all'episodio 14 e come già sapete in questa stagione parlo dei miei film preferiti, 5 per ogni categoria, i primi 4 in ordine sparso e negli ultimi 9 episodi parleremo dei miei film preferiti di sempre, la categoria di oggi è giallo e thriller. Uno dove mistero, omicidi e brividi si mischiano per intrattenere a ogni livello. Il film di oggi è uno dei genali italiani che ho più amato sin da piccolo ed è da allora nel mio cuore. Anni 80, un serial killer miete le proprie vittime fra le prostitute, le quali si riuniscono per cercare di individuarlo. Caramelle da uno sconosciuto è un film effettivamente sconosciuto ai più. datato 1987. Un ultimo strasci code già l'italiana che negli anni 70-80 hanno reso il nostro cinema un cult nel mondo intero. Franco Ferrini è alla sua prima e unica regia, ma la sua carriera di sceneggiatore è fra quelle di maggior successo del cinema di genere italiano. Nel suo curriculum abbiamo la sceneggiatura di capolavori come C'era una volta in America di Sergio Leone, Acqua e Sapone di Carlo Verdone, la trilogia Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina, che non è in questo podcast per un pelo, in questa categoria. Fenomena di Dario Argento e quasi ogni suo film dagli anni 80 ad oggi, compreso l'ultimissimo Occhiali Neri. Molto carino, non so se l'avete visto. Ma la lista delle sue opere da sceneggiatore è davvero lunghissima. Ferrini per il suo primo film da regista mette insieme le donne più belle e promettente degli anni 80. Attina Cenci, Marina Suma, Mara Venier, Anna Galiena, Barbara De Rossi e una giovanissima Sabrina Ferilli. Chiama le musiche Umberto Smaila, che scrive la bellissima canzone Donne Così, cantata dalla Cenci, che vinse il Chuck D'Oro, come più bel brano da una corona sonora. E ci presenta un giallo originale drammatico, figlio dei capolavori di Bava, Argento e Fulci, che cita nella scena finale, ma non vi faccio spoiler. Il film è un grande flop, sia di pubblico che di critica, sia in Italia sia all'estero. La causa è sicuramente l'essere un film troppo vecchio per il mercato di film agli 80 e la non eccelsa recitazione di alcune delle interpreti. Ad esempio, la zia Mara è una donna meravigliosa, ma la preferisco come presentatrice che come attrice. Su tutte brilla certamente Attina Cenci, che in quegli anni ci aveva abituato a grandi ruoli, soprattutto comici, indimenticabili, o comunque in genere più leggeri, e che qui invece è una prostituta indurita dalla vita, che si lascia a volte intenerire, ma sono solo i momenti. Ed è un po' la leader di questo gruppo. La corona sonora di Smila è certamente una delle colonne portanti del film. A parte la bellissima canzone dei titoli di coda che dicevo prima, tutte le musiche sono davvero bellissime, perfette per creare la tensione nei punti giusti. E vi devo dire che anche estrapolata dal film è proprio bella da ascoltare. Io ora vi dirò perché, a perer mio, questo è fra i più bei gialli italiani di sempre. Anche migliore di molti altri che hanno avuto tantissimo successo. Trovo che la sceneggiatura di Ferrini sia solida e che i personaggi, purtroppo interpretati da attrici non sempre eccezionali, siano belli e credibili. Mi piace moltissimo che le prostitute che vediamo siano reali, non c'è moralismo. Per alcune persone non ci sono altre scelte, per altre è stata una scelta volontaria, per tutte però è una scelta libera. La libera scelta di fare quel che si guarda del proprio corpo. Un lavoro non per tutti, non facile, non soltanto quando c'è un serial killer in giro. Persone vere e non caricature. Questa cosa a me piace davvero molto. Apprezzo poi tutti i rimandi ai classici del genere, i guanti di pelle, il rasoio e un sacco di altri elementi piazzati qua e là che omaggiano opere precedenti e che qui vengono riprese e innestate perfettamente nella storia. Se a volte ci sono un paio di situazioni che fanno un po' alzare il sopracciglio, quasi sempre tutto si riprende con un ottimo ritmo. Credo che Caramalleta uno sconosciuto sia un film soprattutto sociale, dove la parte di giallo sia un pretesto per trattare temi piuttosto scomodi e non semplici. Il lato umano della storia è davvero forte, molto forte, più forte della parte crime. Forse anche questo è stato uno dei motivi del flop, chissà. Ma resta il fatto che giudico Caramalleta uno sconosciuto una vera perla del genere, assolutamente da recuperare e da rivalutare. Siamo giunti alla fine di questo quattordicesimo episodio, spero di avervi fatto venire voglia di fare questo tuffo negli anni 80. Io l'ho rivisto oggi e vorrei una maglietta del partito Falce Marchetta. Guardatelo e capirete la battuta. Ci sentiamo tra sette giorni e mi raccomando guardate sempre cose belle.